Cari vergatesi ci troviamo qui sulla sponda destra del fiume Reno dove possiamo vedere in modo molto evidente che le frane che stanno interessando questa zona hanno distrutto questo antico canale, vecchio canale che portava l'acqua alla centrale elettrica che sorgeva in località Serini e che purtroppo non verrà più utilizzata se non si interverrà in maniera adeguata per non dico ripristinare questa centrale elettrica che potrebbe anche essere fatto ma per cercare di fermare questa frana che sta distruggendo e ha già quasi distrutto la strada che da vergati in località Serini porta a Pioppe. Quindi questa zona del fiume particolarmente degradata la segnaliamo in modo dovuto anche perché se non si cerca di favorire il deflusso delle acque in modo più veloce ci troveremo a dover fare i conti con dei problemi sempre maggiori che causeranno disagi molto gravi alla popolazione. Grazie a tutti. 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 Arrivederci al prossimo servizio.